Trascrivo qui ciò che mi ricordo. C'è un libraio stanco di vendere storie a vettori che non piangiano e non cercano. Allora fa un sogno anche lui, però ha occhi aperti. Sogna mentre batte gli scottri della cassa quanto sarebbe bello scoprire di possedere delle facoltà magiche. Le userebbe sedute a stante, mischierebbe a caso le frasi salietti dei romanti, soprattutto i gialli e i trigla, così che i lettori una volta giunti alla pallina fatidica non capirebbero più nulla, si arrabbierebbero e tornerebbero in libreria per farsi capire la copia, scoprendo in tal modo che tutte le copie del loro romanzo giallo